Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica di passaggio interessa il nostro territorio, sarà una giornata piuttosto instabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 13 dicembre. Sul Veneto sarà in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni sparse a tratti diffuse anche a carattere di rovescio. In esaurimento poi entro la notte. Limite della neve oltre i 1100-1300 metri sulle Dolomiti. Le temperature si manterranno sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 8 e 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto ovunque, con piogge da deboli a moderate. Quota neve intorno ai 1400-1600 metri sulle Prealpi, 1200 metri sulle Alpi. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la giornata continuerà con molte nubi e con qualche precipitazione sparsa. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 8-12 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello, solo carne e salumi genuini.